Allora ragazzi buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto, oggi faccio questo video perché ho bisogno del vostro aiuto in questi anni ho fatto tantissimi video quindi come già altre volte ho chiesto chiedo di farmi la vostra domanda ecco prima di fare la vostra domanda inerente all'allenamento, inerente all'alimentazione magari fate un giro sul mio canale, provate a mettere la domanda che state, che volete farmi con il mio nome così vedete su YouTube se già non ho risposto a questa domanda, se non ho risposto alla vostra domanda o magari volete un'altra visione su questo argomento scrivetemi pure qua sotto nei commenti la vostra domanda sarà per me un piacere nelle prossime settimane andare a rispondere a quelle domande più gettonate ecco potete fare la domanda oppure potete andare a vedere qua sotto nei commenti le domande che hanno già fatto altri utenti e se anche a voi interessa questo argomento andate a mettere un like al commento che è stato fatto in questo modo vado a capire che questo argomento è molto gettonato, è molto di interesse e andrò a sviluppare dei contenuti di alta qualità su questi argomenti quindi ho bisogno del vostro aiuto, dovete veramente farmi qua la domanda ecco la domanda non fatemi un poema lungo 30 righe basta una riga sintetizzate andando in maniera veramente specifica a dirmi quello che volete che vada a trattare esempio come eseguire gli addominali sit up come andare a migliorare la percentuale di grasso perché è importante andare ad introdurre certe dosi di carboidrati durante la giornata per fare star meglio il mio corpo eccetera quindi cercate di utilizzare le paroline magiche perché, come, quanto, quando, quale andate a individuare il vostro argomento e andate a sintetizzare la vostra domanda in questo modo sarà più semplice un po' per tutti per andare a leggere anche la vostra richiesta e sarà per me un piacere andare a fare un bel video su questo argomento sapendo poi che vado ad aiutare tantissimi appassionati che seguono la mia pagina e seguono i miei contenuti quindi vai sotto subito a commentare e ci vediamo magari tra qualche giorno con una risposta alla tua domanda se è stata tra le più gettonate dai, grazie come sempre per l'aiuto che mi date perché questo canale l'avete fatto anche voi con le interazioni che quotidianamente ci facciamo e tutti i contenuti che io ho sempre fatto sono un po' per andare a rispondere alle vostre richieste quindi ancora anche oggi sarà così e grazie a tutti quelli che mi daranno una mano ci si vede sempre qua sul mio canale un salutone, ciao! ma che cosa stai aspettando? sei ancora qua? dai, vieni sul mio sito www.umbertomiletto.com ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare dai, corri subito!